Una vittoria importante, una vittoria non facile, perché il Padova ha dimostrato forse di non meritare l'ultimo posto in classifica e nel primo tempo vi ha creato anche delle difficoltà, sei d'accordo? Sì, ma sono tutte partite difficili da quella fine, soprattutto con le squadre che devono salvarsi, devono fare punti, sono agguerrite, quindi non c'è nessuna partita facile. Loro sapevamo che sulle palle inattive sono forti, soprattutto nel primo tempo dove avevamo il vento contro, quindi era difficile. Sono due ruoli diversi che vanno interpretati in modi diversi, io naturalmente preferisco giocare esterno perché sono nato lì, però mi adatto e va benissimo anche al trequartista, sono giocate diverse e con spazi diversi. Con il nuovo modulo, 7 punti, pareggio di Foggia, la vittoria di Crotone, è successo di oggi con il Padova, è un caso che il Pescara con il cambio di modulo sia tornato a far risultato? Io penso che più che il modulo sia la voglia che abbiamo in campo, che abbiamo messo in queste tre partite, si vede il sacrificio di tutti, da partire dai attaccanti, da Mancusa, da Monachello, e si vede, sono loro che iniziano il pressing e riusciamo a stare più campati, più stretti. Però manca il gol di Marras, ci stai provando un po' in tutte le partite, ancora riesci a sbloccarti, ti pesa questo fatto? Ma sinceramente finché la squadra va così, vinciamo le partite, sono felice che facciano con gli altri, poi in tutte le azioni diciamo che riesco ad entrarci, quindi va bene così. Parliamo un attimo, tornando a parlare di questa partita, dell'ambiente, oggi anche per via di questo vento pazzesco, c'era poca gente sugli spalti, insomma fa impressione vedere lo stadio adriatico con così tanti vuoti, con una squadra terza in classifica. Voi dal campo che cosa avvertite? Come vivete questa, diciamo, un po' freddezza del pubblico? Vabbè, ma noi sentiamo i tifosi vicinissimi, infatti siamo veramente contenti che vengano e ovviamente si vorrebbe sempre di più, però non dipende solo da noi e anche se siamo lì in alto cerchiamo di fare il massimo possibile per renderli felici. Obiettivo solo playoff oppure? Obiettivo fare il meglio possibile da qui alla fine. Va bene.